Con il vecchio basco in testa, assieme a tanti altri ricordi, si sono ritrovati anche quest'anno i ragazzi del 225esimo reggimento Arezzo. Gli ex soldati che nella ex caserma Cadorna hanno condiviso esperienze di vita. I fanti del 225esimo si sono ritrovati agli ordini dello storico generale Antonio Radogna per una cerimonia giunta ormai alla quarta edizione. A festeggiare il 225esimo reggimento Arezzo anche i bersaglieri in gonnella della fanfara bersaglieri di Siena.